Eccoci e bentornati sul mio canale, riprendiamo con The Witcher 3 Lo prendiamo subito e lo piazziamo qui in questo bel punto, perfetto, andiamo Punta esperienza 500, a proposito che stiamo sovraccarichi ragazzi, tocca alle vasse un po' di robetta Andiamo di alchimia che tanto non ci serve niente, siamo riusciti ad andare avanti anche senza le pozioni Anche se ci avrebbero dato una bella mano in alcuni frangenti, però va bene anche così Quella sovraccarichi ci dice, che cacchio, voglio vedere ma non è che forse ha raccolto qualche spada 360, di chi è questa? Mettemola, buonissimo, 360, di chi era? Forse era quella di... cosa si chiama? Non mi viene Levamo, levamo, perfetto, andiamo, vediamo un po' se sta meglio, sì, possiamo andare Raggiungiamo la torre, mamma mia Il titolo di questa missione Non mi piace per niente Corco cane Ma una mappoco, com'è che regà? Accelerata con dato Non sarei trovato fucciato sicuramente Che video Morco cane Aspetta che abbasso un po' perché sennò le scoppiano le orecchie Ehm, se non sarà tutta un po' Ehm, se non sarà tutta un po' Ehm, se non sarà tutta un po' Mamma mia bella, andiamo, andiamo, andiamo Ok, vai Vai, sali Sali cavallo Grande cavallo e non lo via Ok, andiamo Sfregate Ok, ok, si è fermata No No Sfregate, sfregate Corri Corri Sfregate Cacchio Cacchio Ma iennifer da stanno Noi siamo persi, regà Sfregate Ho perso iennifer Un po' cacchio annato Enniper So capito, ma C'è sanno i mostri Cacchio Ma la sono persa, regà Eccolo Andiamo Su, che sto, eh Che sto vicino Andiamo Su, andiamo Come on, come on Su, levamocita Da tutti questi mostri Eccomi Forza Sali All'arrampicata Ci manniamo Nel arrebo Ma questi moti Chi so Io ne sapevo Chi so Chi so Chi so Chi so Sti mostri Che vorrei capire Chi so Sti mostri Sì Eredy Ne l'abbiamo ammazzato La caccia del bacio Ancora c'è sta La calcagna Possibile Il bianco gelo Amo Sfregate 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 Sapello prima Come dicevi Come facevo Leva le energie Sto Con un lato Sto Sto Dai Tocca Ndavala C'e Sfregate per po' di cosine, ma l'avevamo già capito quando eravamo andati nel suo laboratorio che qualcosa non andava molto meglio è qua mamma mia mamma mia ok tormenta di neve, aspetta ma vorrei recuperare qualche energia che non sto messo benissimo ok andiamo andiamo i gen andiamo i gen questa è la cammina disinvolta anche la tormenta di neve quando abbiamo fatto quella missione vi ricordate tra i vari volcani che delirio rimandiamo sotto l'ombra tutto mancherà all'arrivo raga mamma mia quindi potrebbe essere che lo scontro finale sia tra siri che avalacro ok vai questa qua andiamo però vedi pure la Yen toglie un bel po' di energia rimisce meno male tutto manca ancora un bel po' una bella passeggiatina comunque mi sta poco mi sta piace sempre di più su un gioco porco cane comunque stiamo arrivando alla fine mi sta cosa dispera mamma avalach surrounded the tower with a magic barricade can you dismantle it? dismantle? no i can make a tear at best but only for a moment because there's no specifics yet will we both get through? no you must go alone i'll come back with siri i know aggaret cheer game almost benissimo quindi tutto da soli ragazzi eh va capi mosiri dove sta raggiungi la torre elfica benissimo andiamo a oh che bello adrenalina pura raga adrenalina pura ok che sto portando cacchio gerald so unfortunate I'd hoped you wouldn't have to witness this Where's Ciri? Nearby Listen Shut up I've heard enough of your bullshit Draw your weapon Let's get this over with Think I'm willing to spare you? I think you will not attack one unarmed Wouldn't be so sure I'm in a foul mood I am not your foe I am merely helping Cirella I don't believe you Can't Not after all that's happened Will you believe me? Avalarca speaks the truth I asked him to help me open the tower Because I aim to enter it Why the hell would you do this? The Wild Hunt's been defeated The White Frost has not The prophecies are true I have seen worlds bound in ice I know what awaits you Only the Elder Blood can stop the White Frost Only I can stop it You don't have to make this sacrifice You're wrong The White Frost is inevitable It will come to freeze the worlds One after the other Eradicating all life Only I can stop the destruction I've given it much thought And made my decision There's gotta be another way What can you know about saving the world, silly You're up at a Witcher This is my story, not yours You must let me finish telling it I'm sorry I'm sorry Come on, what's next? And now that happens to be If he sacrifices for the Death Why do you fight for the Black The Hell What's next? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mamma mia ragazzi. Che gran finale. Che gran finale. Penso che c'erano diverse opzioni. Però questa secondo me era la migliore. Anche perché io so sempre per il bene e per tornare tutto nella normalità anche se purtroppo poi ci deve lasciare sempre qualcuno di caro. Non si riesce mai a battere il male in questi giochi e tutti si sopravvivono. Segui il ciambellano. Qualcosa finisce, qualcosa inizio. Penso che dobbiamo andare a fare report all'imperatura. Che dite? Che cacchio gli dimostra? 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 Mi rischio che ci sarà qualcosa di sempre. Chi più sa? Ah, Valach, Elven Sage. Ma non mi sembravi che ti trovi anche lui. E Yennefer? Si ha deciso di rimanere in l'Ontario. Se non ti obiettili. Non ti obiettili. E tu? Plante di lavoro per le dottori dopo una guerra. Sperò via l'Ontario, magari l'Ontario. Si ha detto Cirilla... parla di locatoria. Si è passato da... Si no... Nessun per voi ci信jovi... ину... Si ho creduto. Noiレologio non ci sembravi. Una cosa... Beli lei. Quizio. No, perviare che alcuni ti... sempre di nuovo E quindi niente è finito così con la morte di Ciri che non me l'aspettavo però era secondo me la scelta migliore da fare e quindi adesso resteranno un botto di missioni da fare secondarie con Geralt che potremo spararci quindi fatemi sapere qui sotto se volete tante missioni secondarie insieme a Geralt qualcuno ha già ve l'ho fatta vedere e spero di portarvene ovviamente tante altre. Ora vediamo un po' che cosa succede se c'è qualche altra missione o praticamente finisce così con che ne so i titoli di coda vediamo un po'. Brutiglia Il porco Il progetto vinto Poggio Ci si che per pensare in theo Il progetto Cosa Ve le raggiungere il secondo Ressere Il progetto Per starare C'è un cambiamento Mi avevo fatto Con il polpio Dio Il prove Per questo Il progetto robore Cosa Ese Quedano Il progetto Cosa Raggiungi la fortezza in rovina Ah vedi ancora non è finito Allora facciamo una cosa ragazzi Ci fermiamo qui e ci vediamo nel prossimo video con The Witcher 3 Spero che il video sia stato il vostro gradimento Se vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale e condividete il mio video Ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale